Il comunicato ci ha indicato che si lavora su una rete di pianteggiatori più ampia, è un livello che coinvolge strutture straniere tipo servizi segreti, russi? Non abbiamo evidenze di questo tipo, abbiamo sicuramente notizia, dati che emergono dagli attivi di indagini e del potenziale coinvolgimento di altre persone, alcune delle quali individuate, altre no, e sulle quali si sta lavorando, e capite che questa è la fase ancora viva e ancora attualissima di queste indagini. Abbiamo analizzato tutti i possibili versanti, nessuno escluso, i soggetti nei cui confronti abbiamo acquisito una mole indiziaria corposa, tale da giustificare le richieste dell'emissione dell'ordinanza, sono quelli che avete visto oggi. Altro non possiamo dire perché ci sono dei profili ancora coperti da esigenze investigative. Per quanto riguarda la moglie di USP non è emersa un'informazione di questo genere, non abbiamo prove del suo coinvolgimento, infatti l'ordinanza non la riguarda.